beh se devo esprimermi su una scala di poche parole sicuramente direi che internet mi ha dato la possibilità di pubblicizzarmi di pubblicizzare grazie al web e a vari web la possibilità di diventare produttore musicale e cinematografico questa possibilità anche se sono sempre rimasto un indipendente sicuramente se non fosse nata la tecnologia moderna e il web ed internet per diffondere in modo comunicativo ed efficace quella che era la mia immagine quella che erano le mie idee di artista quella che erano le mie idee di scrittura sicuramente questa possibilità non l'avrei avuta e di questo ringrazio internet poi come tutte le realtà internet ha i suoi pro internet ha i suoi contro e sicuramente beh diciamo che è utile al 70 per cento ciao diciamo